Bill Comen, bentornati a Bundesitalia Talk, Giorgio Dusi, Giorgio Tosatto, ciao Gio ciao Gio, ciao a tutti Roberto Brambilla, ciao Rob ciao Gio, ciao a tutti oggi è un giorno difficile perché alla fine è l'ultima puntata della nostra audio guida quindi in qualche modo comunque è una puntata speciale visto che è stata una cosa inedita, un progetto inedito peraltro visto che siamo arrivati alla fine fateci anche sapere, dateci dei feedback a livello di numeri quanto lo state ascoltando così stiamo vedendo che è una cosa che apprezzate molto però diteci cosa possiamo migliorare per l'anno prossimo così come avete fatto con la guida a Caratacea come possiamo aggiustare il format per renderlo ancora ancora migliore magari se non cominciassero a giocare a fine luglio sicuramente per noi sarebbe un pochino più facile fare anche delle cose un pochino più attendibili comunque ecco dateci dei feedback, scriveteci tanto il profilo Instagram Bundesitalia anche su Facebook, insomma sui commenti di YouTube, Spotify, mettete anche un po' di stelline già che ci siete e basta parliamo della squadra adesso, l'ultima ovviamente che è il Bayern Monaco perché chiaramente abbiamo fatto questa partenza non faccio tutto l'elenco, scordatevelo siamo partiti dal bocco, un po' abbiamo passato un po' la bassa classifica quelli con ambizioni europee poi siamo arrivati a chi in Europa ci punta a stare e magari a fare ancora un po' meglio l'anno scorso adesso chiaramente arriviamo al titolo e a chi ambisce anche di vincere la Champions League dopo un'estate estremamente impegnativa che adesso andiamo un pochino a ripercorrere chiaramente partiamo dalle cessioni partiamo dalla cessione che è quella di Robert Lewandowski al Barcellona sembrava quasi utopica fino a tre o quattro mesi fa invece eccoci qua 50 milioni complessivi incassati dal Bayern Monaco che è incassato molto anche dai cosiddetti tra virgolette esuberi perché Mark Rock al Leeds per 12 milioni Omar Richards al Nottingham Forest per poco meno di 10 milioni poi sono andati via anche ex prodotti dei livelli come Lars Lukas Mai come Ron Torbenhoffman come Christian Fructel Malik Tillman impresti dai Glasgow Rangers e a parametro zero sono andati via Niklas Zule e Corentin Tolisso a D già annunciati da tanto tempo e invece la campagna acquisti ha previsto in realtà ci sarà la cessione di Chris Richards che adesso che non stiamo registrando è ancora non ufficiale ma presto lo diventerà c'è anche Joshua Zirkzee sul piede di partenza anche lui sta aspettando una squadra impossibile che rimanga a Monaco specialmente dopo gli ultimi avvedimenti di novità ci sono chiaramente i due acquisti dell'Aex che hanno inaugurato il mercato quando ancora sembrava un mercato tranquillo quello del Bayern cioè Nusair Masrawi e Ryan Gravenberg costati insieme più o meno una ventina di milioni Masrawi è arrivato a zero poi il colpaccio Sadio Mané che pensavamo fosse il fiore all'occhiero della campagna acquisti per 40 milioni bonus compresi dal Liverpool e poi invece è arrivato Matthijs De Ligt che una settimana fa è diventato il secondo giocatore più costoso nella storia del club dopo soltanto il suo compagno di difesa Lucas Hernandez e il terzo praticamente è Upamecano no più o meno non è proprio il terzo Upamecano ma comunque sono lì e c'è anche Mattei Stell che quando stiamo registrando in questo momento non è ufficiale ma lo sarà prestissimo sicuramente quando ascolterete la puntata sarà ufficiale, attaccante, classe 2005 e oggi ho parlato con un po' di persone che lo hanno seguito diciamo che il ragazzo ha il suo perché forse 30 milioni bonus compresi per uno che ha giocato così poco perché non ha mai giocato titolare una presa da professionista possono sembrare una follia ma chi l'ha visto dice che questo è uno degli attaccanti giovani più completi che siano mai visti in assoluto in assoluto, non in Francia quindi insomma vediamo perché c'è tanto hype intorno al ragazzo che se diceva potesse prendere la 9 non la prende purtroppo però sarebbe stato un gesto forse anche se estremamente troppo coraggioso ma sarà sicuramente inserito nelle rotazioni della prima squadra e avrà tanto spazio immediatamente in prima squadra e così il mercato dovrebbe essere completo sempre in attesa di Conrad Leimer che potrebbe essere un po' l'ultimo acquisto così come Benjamin Pavard potrebbero partire insomma dettagli di mercato che poi verranno puntellati nelle prossime settimane per quanto riguarda la formazione ufficiale per ora è ancora molto difficile perché chiaramente senza Lewandowski il Bern si deve ridisegnare l'ho detto tante volte in Agisman in questa pre-season uno dei moduli che è stato provato è il 4-2-2-2 sostanzialmente che può anche diventare facilmente con le scalate una specie di 3-4-3 perché è abbastanza facile col terzino che rimane bloccato la carretta insomma è una scalata facile che viene praticamente automatica con ovviamente punti fermi dei Ligt e di Hernandez davanti a Neuer così come Alfonso Davis a sinistra così come chimica a centrocampo Goretzka parte diciamo sfortunatamente con un infortunio che lo tiene fuori due mesi per la sua importanza la conosciamo sono stati provati Sané come esterno e sinistro a destra sono visti un po' di esperimenti davanti invece si è visto Mané ovviamente si è visto Gnabry si è visto anche Thomas Müller che torna a giocare in un ruolo molto più offensivo praticamente da punta la prima punta è un po' eccessivo però è un ruolo in cui nell'anno con Guardiola se non sbaglio sfiorò praticamente 30 gol se non addirittura di superochi insomma era un po' l'anno migliore dal punto di vista realizzativo di Thomas Müller e questo 4-2-2-2 che poi ripeto può diventare anche 3-4-3 mi sembra un modulo fatto anche per mettere diciamo nelle proprie condizioni migliori un giocatore che l'anno scorso possiamo dire che anzi l'anno scorso negli scorsi due anni c'ha un po' deluso perché gli abbiamo dato un alibi per il primo anno secondo sembrava partire tutto buono poi però nella seconda parte del sezione Leroy Sané non è stato proprio non ha tenuto fede al suo talento diciamo così c'è stato un momento l'anno scorso perché aveva iniziato con i famosi fischi che aveva ricevuto forse la prima giornata o la seconda in casa che poi era stato difeso da Nagelsmann e devo dire che da quel momento aveva assolutamente reagito forse un po' il suo punto deboli quello del caratteriale perché poi è un fenomeno assoluto dal punto di vista tecnico e in effetti la prima parte correva tanto noi diciamo sempre se corresse e si impegnasse sempre al 100% sarebbe uno dei giocatori migliori al mondo e già lo è nonostante ogni tanto abbia dei cali diciamo di concentrazione poi è vero che la seconda parte è un po' è stata una delle sue fasi down soprattutto l'ultima parte e quindi insomma questa stagione qua servirà per capire se riprende dall'inizio o dalla fine della scorsa stagione sicuramente il nuovo modo di giocare che appunto è stato detto in tutti i modi da Nagelsmann e non solo lo stesso Lewandowski ha detto il Bayern non avrà problemi e cambierà sicuramente perché le idee di Nagelsmann ci sono ridistribuirà i miei gol e quindi questo nuovo modo che vuol dire anche giocare magari non più appunto non hai più la punta centrale quindi non c'è più il finalizzatore quindi devi muoverla di più andare anche più in centro potrebbe essere un vantaggio per lui infatti come hai detto tu nella formazione anche in quello che sta provando Nagelsmann l'idea è che lui ci sia e che lui sia lì a sinistra dicevo un giocatore di cui c'è poco da dire nel senso che più o meno si conosce quasi tutto il passato la storia poi sua e anche il papà Suleiman che ha giocato nel Friburgo tra l'altro in Zweite e la mamma che è una ginnasta tedesca che ha vinto il bronzo a Los Angeles nell'84 quindi tra l'altro c'è il fratello che potrebbe essere interessante allo Schalke Sidi perché qualcosa sta già facendo sta già giocando eccetera e appunto che cosa ci si aspetta da lui? ci si aspetta che quel giocatore visto i primi anni allo Schalke soprattutto i primi anni allo Schalke cioè se pensiamo a che cosa alle aspettative che c'erano su Sané fino all'acquisto del Manchester City nel 2016 erano enormi non dico che sia stato un po' disatteso perché ripeto la classe è enorme però ora mi viene da dire che quest'anno forse non ci sono più alibi e quindi ci aspettiamo da lui che venga fuori davvero poi è del 96 quindi anche nel pieno appunto è un altro di quelli che dice un sacco di tempo che lo sento ne sento parlare però alla fine ha 26 anni sì sì ha una decina di anni di vissuto già peraltro la sua partita in cui si rivelò fu quello Schalke Real del 2014 in cui fece impazzire il Bernabé insomma sono quasi sono già otto anni otto anni abbondanti no e poi chiaramente noi abbiamo disegnato il 4-4-2 abbiamo messo giù una formazione molto ipotetica ma ci sarà anche il fatto che Gnabry può slittare a destra come può andare dall'altra parte anche Musiala può giocare praticamente ovunque con questo modulo tra centrocampo e volendo anche i due davanti ridisegnando un po' l'attacco diciamo che l'abbondanza offensiva del Bayern Monaco senza Lewandowski permette a Nagelsmann una sperimentazione che di fatto l'anno scorso Lewandowski gli impediva perché anche Nagelsmann l'ha detto no devono sempre giocare con i cross perché chiaramente avendo Lewandowski l'obiettivo doveva essere far arrivare la palla in area in determinati modi per facilitare infatti ha fatto 50 gol poi polemica sterilissima nata da alcuni che dicevano eh Nagelsmann perché mi era venuto fuori che uno dei motivi presunti dell'addio sarebbe stato che Nagelsmann voleva controllare troppi movimenti di Lewandowski grazie allenatore vuole che l'attaccante faccia gol e lo aiuta a fare gol poi c'è nel senso una polemica veramente senza senso che era venuta fuori in Italia ma vabbè come una una delle tante no Rob questa abbondanza possiamo dire che è veramente questa abbondanza di giocatori e anche ovviamente possibilità di ruotarli perché se lasci panchinasse nei due partiti di fila non è come lasciare in panchina Lewandowski due partite di fila ecco questo è questo è chiaro forse è la miglior notizia per Nagelsmann in vista dalla prossima stagione è la miglior notizia perché l'anno scorso Nagelsmann anche fuori anche fuori dalla Germania ha vinto solo la Bundesliga non ha vinto la Pokale è uscito con il Champions League è uscito con il Villarano una partita che sarà già che 50 volte e la vinci 49 ma purtroppo è successo secondo me è una grande notizia ma soprattutto secondo me è una grande notizia che la Rosa sta costruita con criterio nel senso che secondo me adesso la Rosa se dovesse poi arrivare Leimer sarebbe secondo me perfetta la Rosa è profonda di qualità e credo che davvero quest'anno per loro sia obbligatorio come ogni anno ma più che in altri anni è stata la Champions perché secondo me la qualità c'è bisogna vedere come va la nuova difesa perché quella è una fase difensiva bisogna vedere che comunque è una difesa con un giocatore nuovo come De Ligt uno come Upamecano che l'anno scorso ha fatto abbastanza fatica e poi appunto Hernandez è stato secondo me ha fatto una buona stagione poi ovvio e poi bisogna capire Pavard dove va poi abbiamo gente come Alfonso Davis uno dei tanti che potremmo cioè davvero la squadra a me quello che sorprende è soprattutto che la squadra è stata ringiovanita parecchio perché tolto il fatto appunto di Sané per adesso di comprare tutti i giocatori estremamente giovani un ragazzo 17 poi sono stati presi davvero dei giocatori del 99 dunque sono 23 Masraoui 97 Grave Bercher 2002 2002 Masraoui è 97 cioè abbiamo preso ampi giocatori da 25 anni al massimo tolto Sané ovviamente questo vuol dire che Salia Miz ovviamente è Mané nel senso Sané Sané sì no ma questo è chiaro infatti abbiamo già fatto una puntata sul bel caso del Bayern qualche tempo fa infatti il titolo dopo giocavamo su questa cosa di Sané Mané quindi ragazzi capiteci dai è difficile voglio immaginare Pietro quando ce li avrà in campo esatto solidarietà Pietro e Nicolodi che dovrà commentarli a figurarsi lui è un professionista serio non come noi esatto però credo che davvero sia la rosa secondo me è stata strutturata con dei grandi investimenti ma secondo me investimenti che saranno utilizzando un gergo economico saranno ammortizzati perché comunque secondo me è una squadra che ogni anno magari avrà bisogno di qualche ritocco però secondo me la squadra è davvero una squadra destinata non so se ad aprire un ciclo perché non ti possono non possono aprire cicli come quelli che ha avuto Thomas Müller e compagnia però diciamo che si è fatto un discreto passo in avanti secondo me il prossimo premio sarà trovare un portiere diciamo che sarà uno e sarà sostituire Thomas Müller che non si sostituisce ma trovare un giocatore che secondo me è leader tecnici che li hai però un leader di spogliatoio di quel tipo lì perché sono i due che insieme a Kimi che gorezca tengono in piedi uno spogliatoio e quando giochi 80 partiti in un anno e se ne perdi uno o meglio ne vinci una senza convincere ti vengono a cercare diciamo che ti vengono a cercare diciamo che non è facile diciamo che poi questo è stato un capolavoro per ora di Salja Mizic sì dopo ci arriviamo infatti di Salja Mizic ci arriviamo dopo perché è uno dei grandi dei grandissimi temi io prima volevo cogliere il tuo gancio in un momento che ho parlato di Kimi che gorezca leader dello spogliatoio dalla Germania molti giornalisti che seguono il Bayern fanno sapere che Kimi è veramente il braccio destro di Nagelsmann al 100% cioè non voglio dire che sia quasi più capitano di Neuer e Müller perché questo assolutamente no però in campo diciamo che è quello da cui ci andava anche i flic probabilmente però ecco Nagelsmann lui sta dando un ruolo ancora più centrale in questo in questo senso e la cosa secondo me super interessante giù sarà vedere chi gli verrà messo a fianco perché siamo partiti dicendo Kimi e Goretzka quando stanno bene su questo non ci piove però l'infortunio di Goretzka e lo ha anche detto il diretto interessato di cui parliamo adesso cioè Ryan Gravenberg è una grande occasione per lui di mettere in mostra le sue doti già la prova amichevole non ha fatto malissimo ma poi è pronto cioè è del 2002 ma il giocatore è prontissimo è fatto è finito assolutamente sì perché ha fatto tutto ha bruciato le tappe come spesso succede all'Ajax quando arrivi dal dal settore giovanile perché la possibilità ce l'hai e ha dimostrato di essere un centrocampista completo si è visto già l'avevamo fatto esordire che aveva era il 2018 settembre 2018 quindi stiamo parlando di un giocatore di 16 anni e tra l'altro aveva esordito pochi minuti ma col PSV in Doven e quindi non è proprio in una partitina e poi dopo le presenze le fa comincia a farle l'anno successivo stiamo parlando a quel punto di un diciassettenne e diventa titolare inamovibile a 18 anni all'Ajax compreso il Champions League dove segna dove si fa si fa vedere inizia anche a giocare in nazionale quindi è per quello che dico è un giocatore che nonostante l'età è fatto finito per caratteristiche va benissimo cioè nel senso che se dici può giocare di fianco a Kimmick si può giocare eventualmente al posto di Kimmick non credo nel caso in cui magari fai la rotazione o Kimmick a parte che Kimmick non ha bisogno di rotazioni ma nel caso in cui dovesse succedere anche solo una squarifica o un piccolo infortunio eccetera può anche giocare al posto di cioè con Goretzka può giocare in realtà con chiunque come caratteristiche ed è quel tipo di giocatore che ti permette anche di supportare il magari quando Nagelsmann parte con le sue cinque punte hai la possibilità comunque di cinque punte intendo cinque giocatori offensivi può reggere cioè è un giocatore che lo può fare quindi dico si mette molto bene in un contesto dove peraltro può anche continuare a crescere forse ecco l'unico punto interrogativo è che l'ambiente dell'Ajax di Amsterdam è dove lui era sostanzialmente cresciuto era lì c'è arrivato che aveva otto anni quindi cioè nel senso era chiaro che fosse un ambiente privilegiato e lui fosse coccolato protetto eccetera però comunque per il tipo di giocatore anche per il tipo di persona e di ragazzo credo che sia un acquisto assolutamente azzeccato e dico una cosa che in questa audio guida ho detto tante volte anche dal punto di vista del prezzo mi sembra un affare ripeto sempre con i numeri che girano tu hai detto tra lui e Masraoui sono stati spesi 20 milioni perché sostanzialmente Masraoui era un parametro zero quindi vuol dire che lui è arrivato per 20 milioni un 2002 centrocampista ok in Europa c'è un 2003 che è Jude Bellingham e poi dopo andiamo a trovarne di quel livello già fatti e finiti come abbiamo detto all'inizio di quell'età non ne troviamo tantissimi per quella cifra lì infatti anche perché non sarà come dicevi giustamente prima non è che vai a prendere un giocatore marginale nelle rotazioni vai a prendere un 2002 e lo butti subito dentro perché è pronto per fare il titolo quindi ha maggior ragione tra l'altro colgo il gancho per menzionare anche Mattei Stell di cui è un giocatore che chiaramente si conosce poco lo conoscono bene quelli che hanno seguito il calcio giovanile io come dicevo anche prima ho parlato un po' con molti esperti di calcio giovanile ecco diciamo che l'output che mi è arrivato è stato che di centravanti così completi alla sua stazione sono visti anzi di attaccanti ma anche di giocatori in generale così completi alla sua stazione sono visti veramente molto pochi e non sarà uno marginale nel Bayern Monaco ma sarà uno che sarà protagonista che sarà subito in campo aggiricato alla prima squadra per fare un raffronto un altro 2005 arrivato al Bayern che è un croato giovanissimo che neanche 17 anni faceva il capitano in prima divisione croati lo usava in Belupo è finito a giocare giustamente in seconda squadra perché è lì che dovrebbero stare il 2006 attaccante della Juventus Manuel Pisano gioca in under 17 ecco Mattei Steli invece gioca in prima squadra giusto per fare un po' un quadro degli acquisti del Bayern anche nelle giovanili perché il Bayern non si muove mai solo pensando alla prima squadra ma ne sono arrivati anche tanti altri diversi che ora non stiamo qua a menzionare perché sulle giovanili del Bayern dovremmo apprecciare veramente un'altra puntata per andare a parlarvi però ecco tutti quanti comunque con dietro un regista che è ovviamente Brazio Selemizic che roba per anni si è preso palate di fango e tutto quello che poteva prendersi è stato ricordiamo che Selemizic ha anche un posto nel board molto probabilmente su spinta di Uli Eones che lo ha sempre un po' protetto anche credo fosse una sua scelta così come fu per Nico Kovac credo quest'anno e ha un contratto di scadenza nel 2023 se nemmi di il board Bayern in ogni caso quest'anno ha fatto possiamo tranquillamente dirlo un mercato che è un capolavoro poi magari non porta nulla questo è un altro discorso però tutto quello che poteva fare il meglio l'ha fatto il meglio il capolavoro io dico solo una cosa sembra una bestialità ma ad aver dato via uno come Lewandowski 34 anni al prezzo a cui l'ha andato via è un affare è un affare oltre ad avere dato l'abbiamo dato tante volte un'immagine signori non c'è nessuno che è più grande del Bayern noi possiamo offrirvi questo non lo volete perché volete di più purtroppo a noi ci dispiace però questo è poi ovviamente loro sono anche usciti sono stati anche bravi a non rispondere alle provocazioni anche se qualche volta tra le linee io non volevo non volevo sapere se non sei stato Uli perché Uli gli avrebbe detto qualunque cosa diciamo che diciamo che quelli che hanno parlato del Bayern in questi giorni sono fortunati che Uli probabilmente è sul Tegerns e a farsi beatamente i cavoli suoi perché altrimenti si sarebbero presi tanti di quelle palate che veramente guarda è stato diciamo che Uli è un protagonista mancato dell'estate possiamo dire sì no allora diciamo che è stato lui io voglio immaginare cosa gli poteva dire a Zavi io non ho già l'anno scorso gliene aveva dette un po' così adesso ne aveva ancora un po' perché poi ovviamente Zavi era lo stesso procuratore di Alaba però la situazione era un po' diversa perché con Alaba il divorzio è diverso cioè io ho letto ho raccontato Alaba che si chiamano per gli auguri di Natale io dubito che Lewandowski chiami qualcuno del Bayern se non i suoi compagni per gli auguri di qualcosa si sono lasciati in maniera diversa però ha fatto un capolavoro infatti Heiner da bravo preside perché se vogliamo fare una metafora scuola ha detto bravo hai fatto bene i compiti adesso forse ti diamo un rinnovo perché non glielo ha ancora detto però ovviamente dopo questa campagna acquisti poi sappiamo benissimo che generalmente in Germania si punta ad avere la continuità anche perché essendo il Bayern ma molto di società dei giganti dal punto di vista anche della macchina decisionale cambiarne uno all'anno e prendere magari se si prendere magari i manager esterni è difficile perché ovviamente un'ora che conosce come funziona ha già finito cioè ha già finito il suo mandato invece lui è stato scelto da Ones è stato protetto per i primi anni in cui davvero non è stato trattato bene più che dalla stampa che in Germania e sul Bayern sono abbastanza cauti però in generale da addetti ai lavori non è stato trattato bene però ha fatto un mercato intelligente con spalleggiatamente noi abbiamo parlato di lui ma dovremmo parlare anche di Oliver Kahn che ci ha messo sempre la faccia e ha sempre parlato che sembra l'uomo che ci mette però nei momenti difficili è sempre lui che ci mette la faccia e non si è mai nascosto lo faceva in campo figuratevi se non lo fa da dirigente però ha fatto davvero un ottimo lavoro secondo me poi al di là di quello che porterà hanno seminato e come hai detto tu noi non abbiamo parlato di quello che hanno fatto per i giovanili negli ultimi anni oltre ad aver aperto un bellissimo Bayern Campus che è una struttura eccezionale ci stanno lavorando tanto e loro si stanno cruciando da tanto tempo di dire perché non abbiamo più prodotto una generazione dei Schweinsteiger Lam Thomas Müller Hummer tutta la gente cresciuta da noi e ci stanno lavorando secondo me su questo lui è stato il protagonista perché neanche mi aspettavo in così poco tempo così tante mosse e riuscendo a far a comporre il puzzle senza perdere nessun pezzo perché adesso secondo me tolti gli esuberi e tolto l'acquisto di Leimer ormai credo che come dicevamo all'inizio sia a posto perché a meno che qualcuno chieda di andare via ma questo credo che in un campionato con tre competizioni in cui può arrivare in fondo tutte e tre campionato Champions e Coppa di Germania a meno che qualcuno tipo Pavard voglia andare perché voglia giocare per il mondiale io credo che ci saranno pochi che diranno me ne vado sì infatti è uno dei grandi temi poi sarà anche vedere come li ruotano perché c'è il grande tema dell'anno in assoluto che è il mosto mondiale piazzato in mezzo alle palle che insomma chiaramente ha una sua incidenza non soltanto nel fatto che spezia metà la stagione ma anche nel fatto che comprime ancora di più i calendari e obbliga le squadre a fare dei tour de force che insomma sembra quasi la stagione immediatamente la prima post-covid quando si cominciò a giocare il 13 settembre perdendo un mese di stagione poi tutto compresso chiaramente il principio più o meno è lo stesso e sarà anche comunque un anno stiamo un po' girando intorno su questa cosa però insomma è anche arrivato un po' il momento di affrontarla anzitutto io ho visto un Nagelsmann in pre-stagione Joe molto più coinvolto anche per quanto riguarda le dichiarazioni lo ho visto molto più abbottonato stavamo un po' più attento a quello che diceva invece quest'estate quando gli hanno chiesto di Kane comunque non si è fatto prendere a rispondere e si è preso la risposta da Conte e lui si è altamente fregato gli hanno chiesto di De Ligt ha parlato di De Ligt il tifoso della Juventus qui in rivolta lui se ne è bellamente fregato ha detto ciò che pensa è un Nagelsmann che anche comunicativamente mi sembra stia non voglio dire assumendo un pochino più di potere e di responsabilità a parte che lui comunque il discorso di avere delle responsabilità se le ha sempre prese molto volentieri si è sempre preso diciamo così anche di tra virgolette rischi tecnici e tutte queste cose qua però un Conte di farlo all'off e neva all'Ips un altro conto è farlo al Bayern Monaco chiaramente però mi sembra che stia crescendo anche su questo punto di vista in vogliamo dire self confidence se non è il termine giusto però ecco è un aspetto che poi chiaramente va anche un po' di pari passo con la tattica si ha messo giù anche una dichiarazione su Tel niente male ieri sono caricandoli però si ha detto che ne farà 40 tra qualche anno quello che ha detto è vero questo nel senso che secondo me anche il contesto lo ha aiutato non dimentichiamoci che ha 35 anni quindi è abbastanza ovvio che da quel punto di vista della gestione dell'ambiente poi come hai detto tu arriva da Sinsheim e da Lipsia e quindi due realtà molto diverse sia tra loro che ovviamente con quella del Bayern quindi ogni anno imparerà poi è un allenatore è una persona molto intelligente quindi comunque da quel punto di vista sono sicuro al Bayern ci sono anche delle dinamiche anche comunicative di gestione dell'ambiente di rapporto con l'ambiente di rapporto con i media che hanno bisogno di solito di una persona che sia già come dire pronta e lui ha comunque 35 anni e quindi secondo me è verissimo nel senso che ha aspettato il primo anno in cui ha capito dov'era in cui è stato un pochino più profilo basso e poi c'è anche secondo me un aspetto di confidenza nel senso che questa è davvero ne abbiamo già parlato un po' in diverse in diverse forme ma questa è davvero più la sua squadra adesso non perché Lewandowski non fosse il tipo di questo qua questa roba non è vera un allenatore bravo i giocatori che ha figurati se poteva dire mi dà fastidio Lewandowski ci mancherebbe ancora però questo è il tipo di questa qua è davvero la squadra perché è sua perché questa squadra renderà se lui sarà capace a inventare soluzioni alternative a quelle che ha sempre usato questa squadra poi con le caratteristiche diverse cioè da quando c'è Lewandowski ovviamente si è trasformata però comunque il successo di questa squadra qua sarà molto più dipendente dalle sue idee rispetto a quello che invece era era lo scorso anno lo scorso anno un po' quello che gli si è imputato è stato ok hai vinto hai vinto la Bundesliga come quelli prima di te però comunque non c'è tanto beh a parte che non è andata non è andata bene in Champions non è andata assolutamente bene in Pokal quindi al di là dei risultati anche per un'impostazione anche perché non sembrava davvero averci messo tanto di suo tanto in più rispetto a quello che aveva ereditato da Flick questo è il suo anno e quindi secondo me anche dal punto di vista della comunicazione dico proprio terra terra è più gasato e mi dà questa impressione qua perché ci può lavorare di più vero 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 non vede l'ora non vede l'ora che inizi la stagione non vede l'ora di iniziare e quindi di dire anche la sua non so come dire ho questa impressione qua no 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 è verissimo sono sono d'accordo è una cosa super interessante e inoltre tutto questo e quindi andiamo anche a riprendere un po' un discorso che facevamo specialmente ad aprile dopo l'eliminazione con il Villareal avendo alle spalle una tutela che è quella di una dirigenza che comunque gli dà rassicurazioni gli dà garanzie poi è chiaro se a a marzo sei a meno 20 l'Alborosia d'Ortumund fuori ancora gli ottavi di Champions e l'Apocal ma ancora vedi allora lì è giusto che la dirigenza si faccia due domande però insomma diciamo che l'idea è di base Rob è quella che Nagelsmann comunque sia un patrimonio del calcio teleso in questo momento del Bayern Monaco e il Bayern comunque lo voglia tutelare dandogli anche del tempo e si torna anche al discorso che abbiamo fatto prima che comunque il Bayern ha fatto un mercato come dicevi giustamente tu giovani quindi ragiona su un progetto a lungo termine cioè l'anno di transizione forse era quello scorso sicuramente sì no credo che adesso tolto l'anno di ambientamento che è normale abbiamo detto ci sono tante dinamiche scusami mi senti me dicendo 5 anni di contratto Nagelsmann ricordiamo anche che cosa che ricordiamo anche che il Bayern per liberarlo dall'Ipsia ha pagato come un giocatore non è neanche pagato poco ok si diceva 25 e 30 esatto è come se avesse comprato un buon centrocampista avesse comprato un centrocampista buono ha comprato l'allenatore però e secondo me l'idea è proprio era da un po' di tempo che loro cercavano un allenatore per un lungo termine non è che i loro cicli sono stati brevi nel passato però io credo davvero che la scelta di prendere un all'epoca 34 era sì perché lo dite 35 un 34enne ha la prima esperienza in una grande squadra e sostanzialmente sta lì l'anno scorso se vado a memoria e magari voi avete memoria migliore della mia io non ricordo una dichiarazione della dirigenza in cui si può leggere un'ombra di critica al lavoro di Nagelsmann io a me non me ne viene in mente o almeno chiara perché questo vuol dire ovviamente loro sanno perfettamente cosa cosa vuol dire fare i dirigenti devo dire avere un allenatore di quell'età che prima di tutto di essere un allenatore è un ragazzo e un ragazzo che tra l'altro non è che ha avuto una vita facile molto lui è uno che sembra molto a volte risulta antipatico ma se uno poi legge la storia il suo personale non è stato proprio tanto facile lui è proprio cominciato da 0-0 e è arrivato lì con le capacità e secondo me il Bayern lo vuole tutelare perché crede che possa aprire un ciclo i giocatori ci sono la qualità pure ci saranno ovviamente dei passaggi difficili come saranno le istituzioni dei senatori ne dico due le abbiamo citati prima Neuer e Thomas Müller però credo che il Bayern sia pronto sia pronto e non credo che ci sta già pensando non escludo che ci sta già pensando perché comunque stiamo parlando di due anni perché poi il 2024 l'orizzonte temporale è per entrambi perché poi ci sono gli europei in Germania e a meno che succedano cose potrebbe essere forse Neuer no ma insomma Thomas Müller va a curare i suoi cavalli che lui è contento va a far scolare i cavalli è contento soprattutto la moglie oserei dire no io stavo stavo cercando anche un'altra cosa perché tu giustamente dici gli europei no ma c'è anche un'altra cosa la finale di Champions League che si gioca a Monaco non mi ricordo più in quale anno perché l'hanno spostato 828 volte ma se non sbaglio forse può dire tu arrivare nel 2024 perché prima era 2023 poi l'hanno spostata no invece il 2024 era Wembley quindi no arrivano proprio 2023 no diciamo sì diciamo che non mi ricordo più l'ho spostata ma non mi ricordo più quando soprattutto diciamo speriamo solo una cosa che vada meglio dell'ultima volta in cui il Bayern ha giocato a finale in casa esatto 2025 2025 comunque l'ho trovata no perché poi comunque noi e Remiller c'erano no quella sera di quella finale in casa quindi secondo me ci terrebbero ecco rimanere al Bayern ancora fino al 2025 per provare l'assalto quindi potrebbe diciamo che potrebbe essere un orizzonte temporale interessante per che poi ricordiamo prima era nel 2023 doveva essere nel 2023 prima di caos covid eccetera eccetera e infatti Müller aveva il contratto in scadenza 2023 Neuer aveva il contratto in scadenza 2023 poi forse manco loro si aspettavano di performare ancora così perché insomma comunque ci sono anche dei numeri e non solo quelle delle prestazioni che parlano anche per anche per loro vedremo se saranno all'altezza di questa stagione in cui il Bayern Monaco parte chiaramente con solo ambizione quella di vincere qualunque cosa possa vincere dalla Supercoppa di Germania alla Champions League quindi anche a livello di aspettative c'è poco da dire sul Bayern è sempre abbastanza facile invece piuttosto chiediamo a voi se le aspettative le abbiamo rispettate noi perché la nostra audioguida alla Bundesliga giunge qui al termine è stato un viaggio lungo e anche impegnativo per noi perché ci viene spesso per parlare di calcio tedesco però ci siamo visti un po' di più chiaramente visto che c'erano più cose da fare più cose di cui parlare che dire fateci sapere veramente come vi dicevo in inizio se vi è piaciuto questo format perché l'anno prossimo poi potremo riconfermarlo eventualmente e seguiteci iscriveteci su Instagram Facebook tutto lo sapete vedete noi rispondiamo al messaggio quando riusciamo cerchiamo sempre di rispondere a tutti e se non vi rispondiamo insisteteli però poi diamo una risposta anche a voi io non posso far altro che invitarvi soprattutto a seguirci sui nostri canali su Spotify ci saranno un programmatico nuova per il podcast su YouTube iscrivetevi perché ci sono i video insomma che vanno lo sapete non posso far altro che ringraziare Giorgio Sosatto ciao Gio grazie ciao Gio grazie a te grazie a tutti Roberto Brambilla ciao Robo grazie anche a te grazie a te grazie a tutti il tridente il tridente che vi ha accompagnato in questa presentazione alla Bundesliga 22-23 vi saluta spero di averci preso almeno un po' visto che siamo a luglio ma a settembre il mercato finisce però insomma questo magari li riascolteremo l'anno prossimo e ci rideremo sopra forse Icabefertig ci sentiamo presto ciao a tutti grazie a tutti